Penso che abbiamo fatto due campionati diversi perché io ballavo soprattutto in IDF quindi dall'altra parte, non so se conosci, comunque i campionati erano tutti IDF e poi le gare erano prettamente WDC, quindi International, Blackpool, eccetera Stupendo, stupendo Però insomma, un bel percorso sicuramente Bellissimo, bellissimo Lavoravi tanto nei balli di coppia, vero? Sì, solo nei balli di coppia in realtà Ah Quindi Come me Eh? Come me Sì Non ho mai ballato da soli Stessa situazione, esatto Infatti anche sia tu Mattia che lei fate fatica nel fatto di ballare da soli Abbastanza Maria tanto, tantissimo Lo so, però paradossalmente il fatto che lei abbia fatto tanti balli di coppia e tu anche, e il fatto che siete nella stessa squadra vi consentirà, se tutto va bene, di poter ballare insieme, no? Ok Finalmente Ok Ok Molto meglio Pag. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No Grazie a tutti No